Attenzione! Good evening, ragazzi. È appena saltata la corrente in tutta New York City. Visto che cosa hai fatto! E io? Sei stato tu che hai premuto tutti i pulsanti! Non siete stati voi a causare il blackout, ma c'è chi si comporta proprio come voi poco fa. È stato un mese molto caldo in Nord America. Il consumo eccessivo di energia ha causato un blackout in tutta la città. Cosa che ha creato grossi problemi. I vagoni affollati della metropolitana sono bloccati, gli ascensori fermi, i semafori spenti, la grande mela è nei guai. Non c'è più corrente a New York? A chi importa? Ma se non c'è qui è un bel problema. Un attimo. Loro correranno a ripristinare la corrente a New York. Così gliela ruberò. I Meteo Heroes dovranno salvare le persone in pericolo e trovare il modo di ripristinare la corrente. Potrebbe essere la vostra missione più importante. Per questo ho deciso di mandare l'intera squadra ad affrontare il buio della città. Meteo K! Al Jetstream, destinazione New York City, Stati Uniti. Hypernatural World! Benvenuti a New York! Wow! La città che non dorme mai è in un freddo letargo. Volevi dire in un caldo letargo? Adesso non ricominciate con il caldo e il freddo, ragazzi. Allora che piano abbiamo? La nostra missione sarà soccorrere tutti e ripristinare la corrente. Dovremmo dividerci. C'è qualcosa che non va sia con la rete elettrica normale, sia con quella di emergenza. Non riescono a far arrivare la corrente neanche dove più necessaria, come negli ospedali. Sembra il lavoro giusto per te, Fullman. Puoi spostarti da un ospedale all'altro con la tua super velocità e tenere in carica i loro generatori. Il solito zip e zap! Super velocità! Segnalano allagamenti e incendi. La polizia e i vigili del fuoco sono già oberati. Io penso agli incendi. Nix, tu agli allagamenti. Io ai passeggeri intrappolati nella metropolitana. Ventum, tu pensa agli ascensori. Io a cosa penso? Al traffico. Giusto! Nuvolante! Tornado! Ti serve un passaggio? È ora di fare la differenza. È quello che fanno i Medio Heroes! Liquida! Salve, signor generatore dell'ospedale. Sembra che tu abbia bisogno di un piccolo... Superflash! E ora passiamo al prossimo... Superflash idea! Sarebbe più facile se potesse essere spalata come la neve. Puffera di neve! Zangilo! Abbiamo del lavoro da fare, amico mio! Bala di neve! Sembra che agli ascensori serva una spintarella! Mega raffiga! Ah! Ah!